Il mago massimo di Alda Merini Quando la donna del delirio, di rimpettaia della signora Alda Merini, buttò un bambino di sotto, malgrado le urla della vigilanza urbana, i folli, di colpo, rinsavirono e arrivarono da me a frotte gridando «Noi non siamo capaci di una cosa così infame, noi al massimo ci esoneriamo dal mondo». Uno, il più giovane, mi accarezzò la fronte e mi disse «Era il figlio di Manganelli, vero?». Soltanto adesso, davanti a esse, riesco a piangere l'orrore di quella scena, commissionata ed eseguita come un implacabile stupro. «Povero bambino, che tutti i vigili di Milano erano pronti a prendersi sul cuore, e povera me, che non potei neanche chiamare un medico per qualche goccia di Valium. Ma la donna non era cattiva, io lo so, aveva avuto soltanto un raptus, non doveva essere punita così. Sul povero Manganelli una brutta macchia d'inchiostro. Per fortuna, in ogni tragedia, c'è sempre un piccolo o grande demiurgo, e questi è il nostro giovanissimo mago Massimo, il quale, saltando a pie pari i cinque gradini della tragedia, si mise a gridare quasi in un tremendo osanna, e dire che se avessero letto i miei oroscopi qui sul naviglio, la cosa non sarebbe scoppiata».